ciao ragazzi bentornati alle mie lezioni voglio rimanere ancora una volta sul tema dell'improvvisazione che quello più richiesto ultimamente sotto i miei video e voglio prolungare diciamo l'ultima lezione dove abbiamo visto come mixare diciamo linee melodiche lineari come le abbiamo chiamate a successioni intervalli voglio restare su questo argomento però aggiungere un altro tassellino alla nostra improvvisazione ovvero quello dei pattern che possono essere sequenze intervalli però possono essere anche delle formuline gruppi di quattro gruppi cinque terzine sempre su una scala restiamo su una scala maggiore ad esempio quante volte abbiamo studiato la scala maggiore in questo modo facciamo la oggi la maggiore scusate questo è un esempio fatto la si do diesis la si do diesis re si quindi tre note e torno sulla oppure questo quindi invece di tornare sulla prima faccio il classico gruppo di quattro note la si do diesis re poi si do diesis re mi do diesis re mi fa diesis re eccetera pure le terzine eccetera 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 poi ci domandiamo cosa serve studiare 12 anni queste cose quindi questi gruppi questi pattern punto queste formule se poi non le mettiamo pratica quindi cosa possiamo fare possiamo prendere degli spezzoni come abbiamo fatto altra volta con gli intervalli delle parti di queste questi esercizi questi parte e inserirli nella nostra improvvisazione quindi alternare le frasi più melodiche prima cosa mi viene in mente a alternare questo a quello che abbiamo detto prima quindi a una parte di tutti gli esercizi che conosciamo quindi terzine gruppi di 4 gruppi di 5 un altro che mi viene in mente è questo e torno al discorso che avevo fatto la lezione scorso che trovate al link che io ascolto molto nelle per le improvvisazioni sassfonisti sassfonisti utilizzano oltre discorso intervalli che abbiamo visto altra volta anche proprio questi 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 parti questi gruppetti chiamiamoli un po come volete nelle loro improvvisazioni di qualunque genere qualsiasi sassfonista sfido chiunque a dirmi che non utilizza dei parti dei cliché insomma proviamo con una base proviamo con una base alternare quindi delle linee più melodiche a queste frasettine con i pattern metto la base siamo la major 7 a cord del tappeto quindi abbiamo la do diesis mi e sol diesis allora proviamo a fare le frasi melodiche quindi me le canto come avevamo detto in testa e le risuono grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti ora provo ad inserire qualche frammento di uno dei pattern che abbiamo visto grazie a tutti 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 Matteo Allora, non sempre ovviamente vengono buone idee, a volte si toppa, però tutto serve per migliorare, per aggiungere nuove idee alla nostra improvvisazione e perché no trovare degli elementi che poi possiamo riutilizzare, possiamo far diventare parte del nostro vocabolario musicale. Quindi ragazzi per oggi mi fermo qui, come sempre trovate il pdf legato con tutto quello che abbiamo detto, la base ovviamente senza basso e poi ci vediamo alla prossima lezione.